Francesca Larizza, artista ceramista nativa di Bova Marina e poi trapiantata al nord. Una vera passione quella per le ceramiche, ma quanto tempo fa ha cominciato? Io ho cominciato fra, diciamo, un tre anni fa, così per combinazione, intanto per non stare tutto il giorno in casa, ho trovato questa cosa e ho iniziato piano piano. E adesso mi sono appassionata, mi piace, è un lavoro che mi piace, e vado una volta alla settimana e poi faccio anche a casa. Quindi ci sono tanti piatti, tanti vassoi dipinti, insomma una vera e propria arte, ma che esempi ci sono di ceramica artistica? Cioè lei in che cosa si concentra principalmente? Diciamo che mi concentro più sulle donne, diciamo, dei disegni femminili, queste di Corinne che mi piacciono. È molto difficile lavorare la ceramica, fare questo genere di opere d'arte? Le prime volte è molto difficile perché io non ho fatto nessun altro tipo di scuola, per cui ho iniziato piano piano e man mano uno poi si impratichisce e si va avanti meglio, diciamo, perché se lei incomincia a vedere i lavori di prima e di adesso si capisce che adesso sono più belli, no? Quindi sono più rifiniti bene, più lavorati bene, ecco. C'è una crescita nel tempo e che cosa consiglierebbe magari alle ragazze o ragazzi che si avvicinano a quest'arte adesso da giovani? Di iniziare sempre, di non avere T2Bounce, perché man mano che uno va avanti impara sempre di sicuro meglio, ecco. Ogni cosa secondo me si inizia così. Poi se lei li guarda bene vedrà che vede sempre migliorie, diciamo, ecco. Si parte che una non sa quasi niente, però dopo man mano ti appassiona una cosa e poi va avanti sempre meglio. Vorrei ringraziare il Calle a Leone, che è stato gentile, che mi ha dato questo posto per mostrare i miei lavori, diciamo. Io ho iniziato a fare questa, un tipo di, si chiama pittura su ceramica. Queste sono invece delle semplici mattonelle che sono state fatte a pennino e poi con delle sfumature che è in cosa. Anche questa è un'altra cosa. Come vedi, sono sempre pitture su ceramica, si chiamano queste. Poi cosa devo dire? Queste invece sono le donne che sono più attuali, che faccio, diciamo, gli ultimi. Queste sono le donne di Corinne, questa è la lamella d'oro, diciamo, questo fiore così. Come vengono realizzate? Dunque, queste qua sono ceramiche bianche, giusto? E queste ceramiche bianche prima io le farò col pennino e poi le pitturo. E vanno nei forni. Quindi fanno pure tre cotture, questo tipo di ceramica, perché è forte. Si prende una ceramica buona, altrimenti si spaccano le ceramiche, perché va a 800 gradi. Questo è un altro tipo di lavoro, sempre pittura su ceramica, sempre il viso col pennino e poi con le varie pitture, diciamo. Ecco, questa è lo stesso, e questa, vabbè, è tutto nero, questa, li chiamano le donne di Corinne, questi qua, questi tipi di lavoro, diciamo. Perché si chiamano? Di Corinne perché è un pittore che faceva tutte queste baby, sì, diciamo, questi tipi di pitture. Si, di un artista molto noto, certo. E poi questi sono, diciamo, uno dei primi, ecco questi, ho iniziato i primi lavori, facendo questo, diciamo, che si incominciava così, poi questi, che sono, almeno a me piacciono come tipo di lavoro. Anche questi sono sfumati, diciamo, è sempre ceramica, una ceramica più speciale, anche questo. E questo è sempre un piatto che poi viene dipinto con i vari colori sfumati e via discorrendo. Questo è un paesaggio, diciamo, invernale, sempre su una mattonella. E lo stesso questo, questo si può far mettere come sottopentola. E poi ci sono questi fiori che sono dei primi lavori. Quello è un altro vassoio, questo, diciamo, anche quello lì è, poi si fa loro intorno, come quello. E questo, questi sono i lavori che io ho fatto, ecco. Ci sono altri, magari a casa, che ho regalato a tutti i miei parenti hanno dei miei lavori, perché io non mi interessa vendere quanto mi interessa farmi conoscere, diciamo. Grazie. 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 Grazie.